Laura Di Pilato ha presentato la sua candidatura a sindaca di Andrea col sostegno di liste civiche tra le priorità inserite nel programma, la riqualificazione delle periferie, completamento e ricongiungimento dell'anello della tangenziale, mobilità alternativa e aree verdi, più attenzione per il turismo in città e a Castel del Monte, le sue dichiarazioni raccolte da Marilena Pastore. Andrea deve cambiare in meglio perché è una donna violentata e noi dobbiamo cercare di farla riprendere, bisogna accarezzarla, bisogna farla rivivere e rinascere, ecco il mio motto, ricominciamo, ricominciamo da capo perché quello che è stato fatto fino ad ora è stata una violenza, una violenza e questa cosa deve finire e può finire solo con una donna che ha veramente il coraggio di prendere in mano il Palazzo San Francesco e far riprendere l'economia andrina. La bellezza, la storicità del nostro paese. Ripartiamo prima di tutto dalla quotidianità, dopodiché si pagheranno tutti i debiti, ricostituire le strade, riprendere il Castel del Monte, riprendere i quartieri, le periferie, quella vallata che divide San Valentino da Andrea, avvicinarci al popolo, non sono i politici, non è la gente che deve andare dai politici ma i politici dalla gente. Ci sono delle liste a sostegno che le stiamo adesso ricostituendo dopo il lockdown e presto verranno tutte elencate con vari candidati, Pietro Sgaramella è con me e gli altri no perché io comunque prediligo più persone che non sono mai state in politica, tutta gente nuova alla prima esperienza. Io sono una donna libera, tutte le persone che stanno vicino a me sono liberi, quindi non siamo con la destra, non siamo con la sinistra, siamo con il popolo, con le liste civiche, lontani sicuramente da quella vecchia destra che ha cambiato i giocatori ma gli allenatori sono sempre gli stessi.